Alinari Alinari è molto famoso al mondo perché preserva più di 5.5 milioni di vintagini e historici negativi e vintagini dal principio della fotografia fino ad oggi. Abbiamo iniziato anche, negli anni anni, un programma per digitizzare e archivare il nostro contenuto per i nostri progetti di ricerca ma anche per il settore culturale e educativo al mondo. Alinari ha lavorato con la squadra di LIFE e Phase 1 per designare, credo, un sistema molto efficiente per maximizzare la digitalizzazione e riproduzione di immagini in alto qualità per i nostri progetti e per la nostra generazione futura. Abbiamo il sistema PHASE 1 iXR con la camera camera back di credo 80 megapixel e usiamo per questo lavoro due luci MAMAIA 80 millimetri e le luci 120 macro autofocus Con questo sistema siamo capiti di ottenere la produzione tra 150 a 200 immagini di immagini in alto qualità per giorno e devo dire che siamo molto felici per il colore la qualità e l'efficienza del nostro lavoro Capture One funziona molto bene con il focus di iXR e la combinazione di questo sistema con il nostro computer funziona molto bene per maximizzare la produzione e possiamo giudere i cambiamenti tra il computer e la camera e i risultati sono estremamente positivi per il nostro team per la visione di iXR per la visione per la visione di iXR